e voilà sono addormentato tenchi tempo la coppia incolla sente bababababà si è un po' lontano tenchi tempo aiuto sto tirando il cavolo tenchi e tempo così però non vedo niente tenchi e tempo tenchi io io ho nio aruto ashtawa are rukedo kasegatsu yo erashio suonano vabbè leggiamo una frase una volta in base alle previsioni del tempo domani sembra che sia bello ma ci sarà un vento forte ma sembra che c'era un vento forte suonano kasewa marifute ushikunaina veramente non vorrei che soffi troppo il vento cioè vabbè sakuraga questo qua è non è o chiru è chichau come cacchio è chiru sarebbe chiru chiru è appassire cadere chichau yo ma te lo dici tu allora spazio zen quello di zen zen ok gioco quello di informazione poi a è quello di are bel tempo case e vento il nostro amico fuku è ti soffio addosso chiru è appassire chiru è appassire yuki è neve kumo è nuvola nami è wonda umi è mare video mare quanto è bella e unagi è uguale ok questi sono facili shi zen scusate shi zen è natura to zen è naturale naturalmente zen zennai non per niente gu zen è coincidenza ok è quello di informazione se lo ho tenki yo ho è previsione del tempio jo ho è informazioni ok oku è informare qualcuno e keio è un avvertimento o stato attento se è quello di polizia poi are o sei are ru schiarire venire bel tempo are chiaro soleggiato seiten sarebbe cielo chiaro seiten è cielo chiaro tempo senero case e vento case invece questa influenza fusoku è velocità del vento taifu è il tifu kyofu è vento forte e wafu è stile giapponese qua fuku fuku non l'ho messo non ho segnato niente fuku e basta si è solo questo ga fuku soffiare chiru e osan ga chiru appassire cirakasu e fare un casino e sampo e fare una passeggiata ma sampo è il kanji di chiru perché questo già non me lo ricordavo nel senso so leggere sampo non mi ricordavo che era quello di chiru yuki è neve o yuki è una buffella di neve kumbo è nuvola nami è onda e denpa è onda elettromagnetica e tsunami è l'onda anomala però non c'è scritto perché non c'era una voglia qua umi è mare kai gai è estero umi è mare qua mancano un sacco di robe però vabbè si vede che le faranno nelle n2 robe varie onagi è uguale doji è nello stesso momento e to dorio è la stessa quantità leggiamolo tenki yoho kakuninshio verifichiamo il tempo tenki yoho dovrebbe essere questa qua la 1 non ce lo vedremo mai perché non c'è scritto sì comunque voglio fermarmi in un albergo stile giapponese vai che già ryokan è l'albergo stile giapponese sorani atsui kumoga ate kyowa samui quella massi connici wale san genkides mi sono addormentato però sto bene nel cielo ci sono ci sono delle spesse nuvole nel cielo oggi fa fureddo fumo oh mio dio non me lo ricordo mai allora è tonansai boku quindi oku okuto dovrebbe essere okuto che scemo okuto okuto ci ci o dai 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 yukini e naruka moshirenai il nord ovest le regioni del nord ovest ci saranno un nevolone chi è il mangiore nero è il personaggio di kena o kena io lo chiamo kena per me è kena guardate che ti sposto un po' questo è uno dei morbidissimi del gioco di kena quindi mi piace l'ho praticamente preso dal sito ufficiale l'ho copiato poi questo qua è allora si dice okuto ah che scemo okkido che coglione stavo dire okkido vabbè okkido no tsukushi shizen si vede che sto dormendo sono riuscito a divertirmi a vedere le bellezze naturali di okkido sì le tipe in costume da bagno poi non so leggere okuto ti rendi conto sono fuori di testa okkido è cio sonno ashtawa areru rashi domani sembra che sia bello comunque areru è questo qua sensei ni keigo tsukatte tozende usare il keigo con il maestro è naturale tozende è questo qua tsumetai kase ga fuiteru soffa un vento fureddo fuku è questo i johogatara o scelterne se c'è delle belle informazioni fammi sapere è questo eh lo so per cui lo sto ripassando ma è quello il bello mi dimentico ho imparato le cose difficili mi dimentico quelle facili poi namigatakaikara umminideru akiken visto che le onde sono alte andare in mare le pericoluse nami è questo poi eia o cirakasanai yoni kioskete kodasai stai attento ah ma aspetta che voi non vedete cosa sto dicendo scusate non segnavo qua eio cirakasanai yoni kioskete ne stai attento a non mettere la stanza fare casino la stanza e non so dove si trova adesso perché io sto leggendo sul libro il tifone si avvicina il vento diventa forte qua ho scritto case l'influenza vedi che è meglio che ho ripassato ho sbagliato a scrivere mondai ga okitakoto shakoni okokusta è successo un problema e l'ho detto al capo esatto eh lo so però cosa devo fare ci stavo anche pensando aoi sora kyoa seiten da ne e il cielo è blu oggi è tempo sereo ok kanji lezione lezione non so non riesco a scrivere lezione 7 di 2 e giro la pagna allora shokubutsu questi non le so leggere io le piante non le so leggere allora shokubutsu e piante copia e incolla questo qua lo sbaglio sempre ogni volta che lo vedo lo sbaglio che sarebbe ueruke piantare buono sono cose volevo delle cose verdi in casa e ho comprato shrek e ho comprato una pianta che bello l'acqua non non gettarla direttamente addosso alle foglie ma buttala sulla terra cioè mettila sulla terra allora tac adesso facciamo prima gli spazi così è più ordinato perché sennò Proto dice che non è ordinato avete anche il file ordinato comunque in nove giorni ripasso un libro praticamente una cosa che ho fatto in mesi 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 la ripasso in una settimana quindi da fuori la ripeti 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 prima o poi mi ricorderò forse allora u o shoku uero è piantare shoku buzzo è pianta midori è verde midori iro è il colore verde ah è la foglia app è la foglia tabun esatto tabun kamo shirenai zucce è terra to o do zucce è terra to c'è terreno e do i obi è sabato questo comunque sono cose facili cussa è l'erba e sogen e questo non lo so questo qua non lo so questo qua ogni volta che lo vedo non mi piano erboso sarebbe praticamente il giardinetto aoi esatto eda è ramo eda wakare è ramificazioni ne è quello di radice iane è tetto e necco questo non me lo ricordo mai è tetto non formale cosa significa tetto non formale necco si dice tra gli amici no è quello di no agrio agricoltura infatti agricoltura no saglio è lavoro agricolo e no che è il contadino questo è coche o kurenai perché non c'è scritto kurenai ma che cacchio è sta roba non capisco perché mancano i pezzi forse lo mette più avanti questo qua è kurenai kurenai che è rosso figa lo aggiungo io questo è kurenai che è rosso non so perché non c'è forse nel quando ho fatto l'n2 e me lo ripete con cangi più difficili kurenai rosso o me lo fa più avanti non lo so non c'è comunque kurenai è un'altra pronuncia che è rosso la scrivo io no è tetto detto in modo amichevole necco cioè cos'è che si diceva già me lo so necco kurenai no kai è rosso kurenai è rosso è un altro tipo di rosso comunque coiò foglia autunnale o foglia rossa e cocia che è foglia rossa tè nero esatto giusto direi ottimo sarebbe rosso scuro bordeaux comunque rosso chi kiro giallo vabbè qua impariamo i colori e kiro è colore giallo questo qua eura è dietro e omote è davanti e l'ho scritto di fianco uragaesu è girare e voltare urame uramen rovescio della medaglia rovescio della faccia sarebbe vabbè uragao è dall'altro lato rosso amaranto come dai ura kaesini kaesini rovesciare rosso amaranto è amaranto non so neanche cosa è amaranto è rosso scuro bordeaux chiamalo come vuoi è rosso comunque printono uranin eh vabbè lo devo leggere da qua printono urani e nama yokai te kudasai scrivi il nome dietro al foglio alla stampato come la amarena eh sì dipende c'è amarena amarena c'è quella rossa scura e rossa chiara yaneni yukigam tsumoteru sul tetto si accumula la neve eh no no questa è noca noca no kasuga su konaku natte irusoda le i contadini sembrano che stiano diminuendo il numero di contadini stiamo diminuendo eh kotoshi wa eh koyo ga kireida quest'anno sei un coglione eh quest'anno eh le foglie autunnali sono belle il fiore che ho cioè il fiore che ho impiantato l'anno scorso è sbocciato quest'anno eh konomachi wa eh midori ga okute e yasumiasui questa città c'è tanto verde è facile da vivere eh dovrebbe essere eh oh mio dio dovrebbe essere questo B vediamo sì eh Kirono anawa kireidesi colore giallo mi piace a me no ah disagevole eh iwakhan eh iwakhan è una strana sensazione come di assorbimento come il segno di ragno quando hai la strana sensazione che succeda qualcosa eh konotoshi wa hakai hironi e mieru questa terra mi sembra rossa ed è quello col segnetto sotto eh più piccolo cioè più grande scusa tochi ehm eh kochan o nomi masho vorrei bere del tè c'è beviamo del tè eh niwa no ki no eh questo qua era eda nitoriga eh tomateru sul ramo dell'albero del giardino si è fermato un uccellino c'è un uccello eh tomateru non è questo non so perché ho scritto il kanji che è sbagliato pure eh dovrebbe essere il tomaru normale non so perché ho messo quel kanji o forse non l'ho guardato standing by eh ciao spam spam sniper spam sniper vabbè comunque benvenuto che go a musukashiyo no alla fine se hai studiato se hai guardato le mie tabelle che go è facile perché con le mie tabelle lo fai easy easy ma la domanda è le hai prese le mie tabelle eh Tanaka Sanwa eh eh Kazoku de eh Sisi No Gyo Osteiru il il signor Tanaka con la famiglia fa l'agricoltura poi Konoki eh Fuyuwa eh Appaga Ocicciaudayo questo albero d'inverno fa gli cadono le foglie Natsuwa scusate Natsuwa se è sbagliato qualcosa ditevelo che io sto guardando il libro Natsuwa eh Niuani eh Kusaga Taksan Uete Tayenda l'estate c'è tanta erbaccia e cresce tanta erbaccia ed è un problema eh Sono Shatsu eh eh Uragaeshi Ninate c'è la camicia al contrario come fai a metterti la camicia al contrario vabbè davanti col dietro è un po' difficile eh Akini Naruto e Ichinichiju eh eh no 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 kagyo de isokashi giusto eh quando arriva l'autunno siamo impegnati con l'agricoltura ok adesso impariamo a dire insetto sei un contorsionista in che senso lezione eh aiuto mi pro del nago camicia al contrario eh esatto è quello che sto dicendo dovrebbe essere davanti col cioè non davanti col dietro ma ribaltata perché davanti col dietro è un po' difficile sette tre doi no ma che cacchio è manco un pezzo what cos'è che ho scritto c'è una lezione sbagliata aha e mo e mo questa è una lezione di di eh che cacchio è combinato questa è grammatica no ho mischiato tutto non ci voglio credere ok comunque eh questa parte la devo cancellare sperando che non l'ho sbagliata cioè che non manca vabbè che tanto quando ripasso le altre lo vedo che manca comattana comattane comattane comunque giusto lo stesso comattano è qua comunque almeno mi sono accorto che c'è una parte che non c'è l'importante è che ci sia negli altri se non c'è vabbè che io ho l'originale qua comattane ho l'originale quindi fino a che non l'ho messo a posto tutto tengo l'originale poi lo cancello allora mushi nado insetti eccetera eccetera che bello insetti eccetera insetti ah no si legge in un altro modo si legge in un altro modo mushi mushi eccetera no insetti eccetera ah mushi ga nai teiru gli insetti cantano kusa non ha kakana da dentro l'erbaccia i che non ha kakani mo ga ironè anche dentro il laghetto dentro lo stagno ci sono potashi wa mushi wa nai te io non sopporto gli insetti i tokuni anch'io che ga i pai aru mushi to ka cio su mushi to ka da me io non cioè non sono non contrario cioè non mi piacciono gli insetti specialmente quelli con tanti peli o quelli che succhiano il sangue eccetera eccetera lo sterco raro cioè no non è brutto ma io sono arachnofobico i ragni proprio zero cervo volante cervo volante l'ho visto che mangiava l'anguria da a casa di maco ed era enorme e guarda guarda che bello l'ho preso sta mangiando l'anguria l'ho visto stavo per vomitare tarantola pelosa no sì no ma basta anche meno pelosa della tarantola che mi fa schifo il ragno proprio io non vede che in una vita passata era un insetto tipo formica robe varie perché quando vedo i ragni proprio mi cacco sotto allora mushi insetto vabbè finì c'è na è cantare o suonare naku e naru comunque non so perché ho fatto questa divisione vabbè cantare comunque è lo stesso i che è lago e denci e batteria questo è regolarissimo cioè regolare è regolare come si dice lago più elettricità batteria ci uno vuole però che è pelo e mo che è peli caminò che è capelli e mofu è la coperta e hai mai visto uno scorpione sì sì me lo sono trovato nel letto quando ero piccolo in uno spavento perché vivono in collegio vicino alla Svizzera e noi viviamo in mezzo ai campi e robe varie dovevo uno scorpione dentro il letto e sono trovato un giorno e ogni volta infatti adesso ogni volta che vado a letto guardo nel letto prima di entrare ci è sangue e sciucchezzo è sanguinare perdere sangue su è succhiare o aspirare anche tabacco su è la stessa sorseggiare vabbè comunque aspira cochio e respira infatti questo è chiamare più che questo diventare spira inoci è vita mei è vita inoci seme è vita e meire è ordine c e g qua è un'altra terra toci terreno non era pulito in che senso non era pulito canco c è posto per turisti c'era di tutto c'era il come si chiama c'erano i campi con i maiali robe varie era un collegio enorme sanci è punto questo già non me lo ricordo sanci punto di origine questo qua non me lo ricordo mai ciri e geografia che non mi ricordo perché è una geografia non lo studio mai akici è terreno vuoto cio è regione gim nel pavimento base gimi è semplice o piatto giscine è terremoto oca è altro ocani altro inoltre sono ta eccetera altre robe non eccetera sarebbe altre cose vabbè tanini è persona sconosciuta sara è piatto ai zara è posa cenere andiamo se mi ricordo qualcosa di quello che ho appena detto per me no conosci i uginno conosara e già ho pronunciato il collegio per esempio è pieno di scorpioni c'erano pure i serpenti sì sì c'è dietro c'era tipo una pineta c'è una foresta con una pineta poi c'era il campo da calcio il posto dove tenevano gli animali tipo maiali eccetera eccetera i dormitori era un posto enorme conosara i uginno tezukurida questo piatto è un piatto fatto a mano di un mio amico o una mia amica si spera rimokonno denchi ga kirechata le batterie del telecomando sono finite ino chino taisezun sani e zuite e kangaro penso all'importanza della vita nanika okani shitsumon wa arimasenka avete altre domande se le avete non vi risponderò kono akichiwa questo è quello che mi sbaglio sempre abbiamo chusha joni narurashi sembra che questo spazio aperto diventi un parcheggio tarzanalex esatto però era bello sono andato anche cos'è stato quando siamo andati a Varese che si è sposata mia cugina ultimamente sono andato a rivedere quel posto lì peccato che è chiuso non sono potuto entrare a vederlo era un po' era con i vetri rotti tutto chiuso lasciato lì a marcire ho pescato nel lago o nel laghetto chiamatelo come vuoi molti si offendono quando dite che lago però è un lago è in zona Varese no è a 13 chilometri dalla Svizzera è proprio vicino alla Svizzera sì comunque è Varese anzi non in Svizzera Rodero eh sì praticamente facevi un chilometro o due chilometri eri Svizzera è in provincia di Como si chiama Rodero allora caminò caminò che ganna con acciata mi sono diventati capelli lunghi c yubi e doshitano chigadeteruyo cosa hai fatto al dito ti esce il sangue natsunoyama ni ewa mushigaoi in montagna d'estate ci sono tanti insetti beh anche cioè anche non in montagna però eh kanko 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 è sempre pieno di vita comunque kanko c è questo qua kono aspetta che non vedete aspetta anche se non vedete non mi parla tanto dite questo sta dicendo cazzate non so neanche che cazzo sta dicendo provami lo stesso in collegio nel tuo caso sì esatto kono hiruwa kono hiruwa ciotto jimmy kanà questo colore è un po' sempliciotto cioè semplice da vecchio jimmy loro dicono da vecchio semplice samukunattara mo fuga o shina quando diventa freddo voglio una coperta invece mako vuole la coperta anche quando fa caldo dice che fa freddo sojiki ga gomio suanai koaretakana questo è il kanji preferito di mia moglie che è l'aspirapolvere l'aspirapolvere non succhia l'immondizia la monnezza sarà rotta mesamashi mesamashi doke ega dovrebbe essere natte imas la sveglia suona ok neko neko no nakigoeo urusaku tenne murerarenai la voce del gatto che mi agola praticamente è fastidiosa e non riesco a dormire perché sei un assoluto runzo ok lezione 7 di 4 sperando che sotto ci sia la 7 di 4 ok paesaggio ciò tomate ti ha tolto il maglione in che senso ti ha tolto il maglione no è che lei dorme col piumone anche d'estate adesso ha tipo 4 coperte si è in calorico enormi che senso ah il gatto dici no 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 il gatto canta di notte fa mia 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 allora fuke e keshiki me li confondo sempre i keshiki danè areta sorani aoi non me lo ricordo dovrebbe essere mizumi e shiroifune questo qua è il lago questo è il lago mizumi dovrebbe essere sì questo qua è il lago vero kono mizumi wa kasanga tsukutandate sai che questo lago l'ha costruito cioè è stato costruito da un cioè era un vulcano praticamente ora mesura shi ishi ya questo è ishi l'altro è iwa mo arudesho e ci sono inoltre strane pietre e sassi o il contrario non mi ricordo mai questo è sasso e questo è pietro allora fuke è paeggiaggio andiamo giù mizumi è il lago lago di mare va che bravo che ho scritto varese il lago di varese ho scritto poi ho scritto il 4 che non mi piace lo scriviamo meglio mi è venuto caldo adesso mi tolgo il maglio io ho anche i che dico lago aspetta ah mi è schioccata la schiena sono proprio vecchio ormai ishi secchi vai intanto lo vedo dopo questo è iwa che è roccia come me questo è ecco lo dicevo che avevo il maglione questo dicevo oh oh cavallo eh ma no me lo sono tolto avevo caldo questo ieri non lo riuscivo a leggere zucchero perché sono abituato a leggere sato come si chiama sato che è il il nome della persona e quando ho trovato sato zucchero mi sono impappinato però vabbè è normale o o u cavallo esatto o o o u ma o o o u ma o o o u ma anzi sarebbe u u u ma è più che allora vabbè che scenario o background eh fu che scenario più che paesaggio mettiamo scenario qua per me uno è scenario e l'altro che sci che paesaggio o l'inverso no qua mi dice che è uguale tutte e due boh beh comunque paesaggio scenario è la stessa roba no allora poi abbiamo mizumi che è il lago e poi abbiamo bareseco che è il lago di barese fune la nave fune nave ogata fune la nave no vedi che ho sbagliato ho detto ogata fune ogata sen reminiscenze di una canzone di un professore nave di tipo nave di tipo grande e ogata di tipo piccolo poi scingata è il modello nuovo ishi è la pietra sechi è sempre pietra e sezù non me lo ricordo mai allora ishi è pietra se che ne sapone questo qua me lo dimentico sempre e sekiu è il petroglio e cantante è anche un po' attrice esatto iwa è roccia iwa è ganseki praticamente il kanji di sasso e sasso che diventa roccia e ganseki uma è cavallo o ba uma è cavallo e gioba è montare a cavallo questo qua non me lo ricordo mai che si pronuncia ba questo è suna che è sabbia e suna e sato che è zucchero e sabaku che è deserto questo qua forse è sotto no lo faccio in un'altra volta questo qua lo guardo un secondo perché quel kanji me lo dimentico sempre guardatemi un secondo Roberto Vecchioni sì sì no io spesso che l'ho visto al concerto quella canzone a Montemilone in concerto oh oh cavallo oh oh cavallo grande a te grande cantante avevo boh avevo forse dieci anni o cinque anni no significa zucchero anche questo si pronuncia to e significa zucchero ok quindi zucchero più zucchero fa zucchero c'è sabbia di zucchero fa zucchero si scrive zucchero non con due r bravo bravo così si fa così vi voglio attenti io non guardo se l'italiano già non guardo il giapponese immagina l'italiano non per dire che non devi correggermi anzi fai bene a correggermi però non ci faccio caso non ho neanche letto di fianco anche qua anche qua io leggo qui non guardo qua cioè guardo qua solo per vedere se è giusto allora scima è isola e to è sempre scima scima è isola e questo è scima guni è l'isola nazione e shawa cos'è jawa cos'è jawa jawa to all'isola di jawa infatti ho detto ma che cacchio è jawa mi sembrava shawa quello della doccia abura che è olio abbiamo imparato abura abbiamo imparato che è una ieri non riuscivo a leggere abura perché non l'ho trovato così ma l'ho trovato così che è quello di shibo però l'ho già scritto jawa jawa to non è jawa shima è jawa to si legge to è come fune alla fine shoyu come questo da solo si legge abra insieme si legge yu alla fine si legge yu shoyu è salsa di soia poi abbiamo mamoru e su mamoru è ti difendo io o mamori è porta fortuna e russo è non essere in casa esatto questo qua è proprio quello di jiraya questo qua è quello che jiraya è in fronte ok è mettere o lasciare ok è il posto dove lasciare le cose e ichi è il luogo ok proviamo a leggere non mi ricordo niente o cavallo secchende te o arate kudasai lavati le mani col sapun jitensha jitensha okibawa jitensha okibawa do kodeshoka dov'è il posto dove si mettono le biciclette non farmelo dire che poi ti offendi ah abra o zucata riori wa karo rigatakai i piatti fatti con l'olio sono molto calorici rosso rosso mizumi no ue o shiroi tori gattonderu sopra il lago c'è un uccello che vola e non vi dico di chi è mizumi yama no ue karam miruke shiki wa subara shikata è stato meraviglioso il paesaggio il panorama che si vede da sopra la montagna e il gusto ci guadagna kogata sende mi sono divertito a pescare i pesci sulla piccola barchetta è b sì giusto sembra che aumenteranno il prezzo del petrolio e quello di sasso attenzione non è quello di pietra è quello di sasso che questo questo qua se vedi sarebbe l'olio di sasso del petrolio il giappone è una nazione isola circondata dal mare se è una nazione isola per forza è circondata dal mare se no non era una nazione isola era una penisola dove cacchio è shima però è questo qua è quello shima attenzione che è quello come Tori ma c'ha sotto Yama cioè dentro c'ha Yama dove cacchio è sì qua Yama Ryoko no Haida fukeno shashino taksan totta durante il viaggio ho fatto tante foto del paesaggio faccio anche Rima ed è fukeno comunque questo konoshimano shizen o mamotte kitai vorrei difendere mamotte kitai vorrei difendere da qui in avanti la bellezza di questa cioè la natura di questa isola come fai a difendere lo sai solo tu con la spada apli wa apli non so cosa significa kono apli wa basno questo qua è ichi o oshiite kureru e questa applicazione ti spiega dove cacchio è il bas il posto dove è il pilman kutsu no nakani questo da fastidio iwaga haite kimo chigawarui dovrebbe anche questo l'ho sbagliato l'altra volta è su una dentro la scarpa vai a fare la spesa e grazie per essere passato dentro la scarpa mi è entrata la sabbia è una brutta sensazione io qua metterei mi è entrato un sasso noi italiani diciamo mi è entrato un sasso nella scarpa invece loro dicono la sabbia vorrei salire su una nave e fare un bel giro del mondo in relax così perché ho pochi soldi in questo parco di animali come cazzo è zoo si può anche divertirsi a salire a cavalcare i cavalli bravo lascia la tua valise o la tua roba sopra alla scrivania e metti le mani in alto forse metti le mani in alto non c'era scritto però l'ho aggiunto io lezione lezione 7 di 5 Mukashi no Mukashi Tomirai nel passato e nel futuro tanto tempo fa e nel futuro qua dice passato e futuro ma sarebbe tanto tempo fa e nel futuro Mukashi non è neanche scritto Mukashi Tomirai sarebbe tanto tempo fa e nel futuro Yakunengo nomirai mo okome kara o sake o tsukute runo kana anche tra cento anni nel futuro faranno il cuore o il sake cioè in teoria il sake perché il sake è fatto dal riso sicuramente sarà così Mukashi kara zutto so ste kitanda kara perché da tanto tempo fa fino adesso è sempre stato fatto in questo modo qua Mukashi magari lo segniamo che è il kanji della lezione infatti è Mukashi il primo kanji ok aspetta che questo mi dà fastidio ok facciamo gli spazi se no proto mi picchia fai gli spazi fai gli spazi fai gli spazi nooo questo qua me lo dimentico sempre da Rezun infatti lo chiedo sempre a Mako e lo so e lo so però continuo a chiedere perché sono stronzo Ghingano a te Kinochiyo to me te i Kiru un po' di kanji ci sono sui Kiru ok allora Mukashi è tanto tempo fa Mi non ha ancora finito allora Mirai è futuro Mi seinen è minorenne Mi shio Mi shio scusate Mi shio è non usato Mi shio sarebbe Mi shio Mi tei è non ho ancora deciso Come è riso Beicocco è l'America e Nanbei è il Sud America non me ricordo questi qua non me li ricordo mai Sake Saka e Shu Sake è vino Sakaia è il negozio di liquori Nyonshu è il vino giapponese questo qua è Inshu Unten guidare umbriaco giusto Nyu è latte Gyu Nyu è il latte di vacca e sarebbe sempre il latte latte o tette vabbè che cose terribili che scrivo Nyu sei Nyu sei in è il latticino Matsu che voi dite no ma l'hai fatto prima no è la stanghetta diversa Matsu è la fine settimana Shumatsu Getsumatsu fine mese nel mese fine anno Retsu è in linea o in colonna Gyoretsu è la coda Ny qua cos'è che ho scritto Nyretsume qua ho sbagliato con l'orale il secondo in coda sarebbe Nyretsume poi Rei o Tatoe esempio Tatoe e Bai per esempio e Rei esempio questo è quello di Kiru che ha leggermente un po' di pronunce I A Nama Usho Gio sei altri non ne aveva ok Ga Ikiru vivere o Ikas questo è lasciar vivere transitivo intransitivo Ga Aeru questo è grescere germogliare quello delle piante Namayasai la verdura fresca Isho è per tutta la vita Tanjobi è buon compleanno Seinen Gappi è data di nascita questo Gappi me lo dimentico sempre però l'ho detto giusto e Umareru è nascere vediamo qua Akichi Akichi Ni Wa Taksan Wa e Kusaga Taksan Ueteiru nei campi aperti c'è tanta erbaccia cioè nasce tanta erbaccia poi Aeru è spuntare vabbè hai te Tsugino Seikai Taikai wa Nan Nan Beit de Okanawareru la prossima il prossimo torneo mondiale sarà svolto in Sud America Nambe Kinjo no Sakai Ga kombini Ninatta la liquoreria o il negozio di liquori del vicinato è diventato un kombini Sakai Scusate Scusate Kono Goryoshin Kono Shinsetsu Scusate Kono Shinsetsu wa Ishova Suremasen Non mi dimenticherò mai della tua gentilezza Namasaka Namayasai Ciao Nosara Daga Sukida Mi piacciono i piatti di salata bella Furesca A me no Namayasai perché l'uno lo scrivo sempre diverso non lo so I don't know No Kakara Komeo Okute Morata mi è arrivato mi ha spedito del riso ho ricevuto la spedizione di riso da un contadino cioè il papà di mia moglie come poi Osake wa Donogurai Nomemaska Quanto sake sei in grado di bere o quanto liquore sei in grado di bere Mukashi Kokowa Umidata Tanto tempo fa qua c'era il mare C Yogurto Yogurto What Saltato i pezzi scusate infatti non c'è niente Tatoeba Donna Ba Tatoeba Donna Donna Ba Esca per esempio in quale circostanza ma dov'è ho saltato una frase non ce l'ho ah ok ho saltato questa Nematsu Ninaruto Doroga Komus quando diventa in fine anno la strada si riempie cioè sono affollate questo qua fammi un esempio di quello che ho detto prima questo è Mishio no Anabi wa Mizuo Suasete Stetema Sarebbero i fuochi d'artificio che non è usato o usati non usati o dovrebbero essere quello che hai già usato però dice non usati boh vabbè mettili fagli succhiare l'acqua e buttali cioè praticamente devi buttarli in un cestino pieno d'acqua i miei amici hanno festeggiato il mio compleanno non va bene che guidi cioè non devi assolutamente guidare ambriaco yogurt lo yogurt viene fatto dal latte ma va misi no maeni itoga retsu o tsukute naranderu davanti al negozio le persone hanno fatto una linea e stanno in coda ok provo a fare gli esercizi e questo qua sarà la lezione no ah si giusto la lezione 8 8 di one ok che è quella di domani c'è l'unità che ripasso domani che metterò a posto domani questo è a posto direi adesso faccio leggo gli esercizi sperando di farli giusti e e e e e e e prendo il foglio si vede si più o meno tanto vabbè se bar non ha senso perché tanto barò a me stesso ni wa ni ana o ue yo tomo penso di piantare dei fiori nel giardino ue 3 ano aoi yane no ie ga tanaka san no ie des la casa col tetto blu è la casa del signor tanaka yane 2 ancora no l'altro era 3 queste due scusate kono shashin shu de hiron dobutsu ga mira renundane con questa foto di raccolti si possono vedere svariati tipi di animali dobutsu dobutsu no ah non è dobutsu no è shokubutsu questo è shokubutsu si possono vedere ho letto dobutsu al posto di shokubutsu tante piante uno taifu gachi kazu teiru il tifone si avvicina taifu hachi la 3 taifu ni naruto c'è hachi ni naruto c'è dico parola a caso senza leggere quando quando arriva l'autunno kono enwa koyo akireida in questa zona le foglie autunnali sono belle koyo dovrebbe essere kou you dovrebbe essere koyou si dovrebbe essere koyou la mia risposta sarà koyou lo stesso non è che cambia però se ho sbagliato me lo scrivo dovrebbe essere kou you kou you giusto ok perfetto che era la 1 mainichi gyunyu o non dei mas bevo tutti i giorni il latte la 2 gyu no gyunyu e 4 nionwa shima gunides il giappone è un'isola è un'isola a nazione isola comunque 2 qua devo invece leggere l'iragana e scegliere il kanji nimotsu wa dokuni oitarai indesuka oita e 4 tabacco wa tabacco suno wa karadani okunai fumare le sigarette fa male al corpo e 2 akachano kaminoke wa a etekita sono nati i capelli sono spuntati i capelli al bambino è uno kokode denpa yowakute internet gatsukai nikui qua c'è poco c'è poca connessione c'è poca come si dice denpa c'è poco campo e non funziona internet denpa è quello di lago no denpa sì dovrebbe essere quello di oh mio dio non mi ricordo dovrebbe essere quello di onda denpa questo qua il 2 lo scrivo giusto per verificare ma la mia risposta si è giusto è quella di onda a chime ganatta dare darò è suonato il campanello chi sarà è la 1 konosutsu jimi jimi dakedo totemo kiasunda questo vestito è un po' da vecchio o semplice ma è facile da mettere jimi dovrebbe essere se non dico una stronzata è quello di questo qua è il 3 vediamo perché è stronzo ti metti i cangi simili comunque è giusto la nave che trasportava il petrolio ha fatto un incidente e ha sporcato il mare se kiyu è 3 poi koko yumena kanko chi dakara gaikoku jin mo oine questo è un posto famoso di turismo ci sono tanti stranieri ga kuchi è 3 sein mi seinen wa o sake o non devai kemasen i minorenni non devono bere il sake qual allora figa dovrebbe essere quella col segnetto più piccolo qua è stronzo perché te lo mette capito ti metti i due i due con il segno diverso mi cioè ti mette quello con il trattino più largo sì è quello con il trattino più piccolo quindi è giusto allora tatoeba donna koto odaste sezumeste kurenai tatoeba donna koto rei dovrebbe essere rei esempio 2 per esempio quale tipo di esempio o devo dire per fare la spiegazione un tensuruto kiwa kotsururuo mamora questo dovrebbe essere mamora mamora nakcha da medà quando guidi devi devi rispettare le regole della strada 4 koronde butsukete anakara chigadeta sono caduto e ho sbattuto sono caduto sbattuto e mi è uscito il sangue dal naso c è questo qua col trattino sopra 2 comunque yamanoue karamita keshiki wa su goku kireidatta il panorama che ho visto dalla montagna era molto bello è uno correggo velocemente ma queste sono giuste in teoria però correggiamo perché non si sa mai è facile dire l'ho fatta giusto ma se non lo so 3 3 ue 2 yane allora aspetta 3 2 1 2 3 ue 2 yane 1 shokubutsu e l'altro cos'era? 3 2 1 2 e e tai fu ok poi 1 4 2 e koyo 4 ginyu e 2 shimaguni ok poi 4 2 1 2 4 oita 2 su non me ne ricordo già più 4 2 1 aete 2 1 3 3 dempa natta e jimi e sekyu ok 3 1 2 quello di quello di c 2 quello di ma no 1 1 è quello di misenen e 2 quello di re ok 4 2 1 mamoru c e keshiki questo l'ho fatto giusto adesso leggiamo il ploso qua vediamo se riesco a leggerlo o no da quando ho iniziato a fare lezioni di agricoltura ho iniziato a pensare riguardo alla natura nella stanza ho messo delle piante controllo che dietro le foglie che non ci siano insetti e che se l'acqua basta ah tutti i giorni faccio il check che ci sia abbastanza acqua nella terra cioè che non ci siano insetti dietro le foglie a fine settimana vado spesso a fare spese nel negozio dove andavo quando ero bambino kokode kouto tochi tochi no yasai wa mochiron atamago gyunyunado iroira natabe monoga okanomise yori yasuku toishi allora le cose che compro qua sia le vabbè sarebbero le verdure del posto le uova cioè le uova le uova latte anche altre varie cose sono più buone sono più economiche e buone degli altri negozi perché lo dici tu aretahini mizumi no ma wario sampo suruto kokoro mo karadamo genki ninaru e quando c'è bel tempo vado a farmi una passeggiata intorno al lago e mi rilassa sia il cuore che la mente cioè mi sto bene sia nel cervello che nel corpo allora busho no naio to au e ni maru ok qua devo segnare quelli giusti e quelli sbagliati però scusa qua non si capisce se è bel tempo o no lui cammina e c'è non so se è un lago questo dovrebbe essere un lago però boh qua dipende anche dal disegnatore vabbè lui dall'acqua alle piante va bene lui si mangia la coca cola l'hamburger direi di no e questo qua che cammina sperando che sia un lago o il disegnatore è un coglione dovrebbe essere cerchio x cerchio per vedere se ho capito quello che c'è scritto però dipende dal disegnatore magari quello ha disegnato il mare e dice no è sbagliato è un mare e io che cacchio ne so che è un mare quello lì cerchio x cerchio ok giusto molto bene anche per oggi abbiamo dato niente tanti baci e tanti abbracci grazie Massi sempre per la compagnia e niente poi adesso vi aggiorno il file su su discord e niente ci vediamo domani grazie per avermela visto e sentito bye bye ciao